Buonasera, ben trovate a Rapport Sport. Ieri, come abbiamo detto, c'è giocata la giornata di Serie D, nel girone C c'è il Venezia capolista, nel girone D c'è il Parma. Ecco, ieri il Venezia, dopo otto giornate, ha portato a casa, diciamo così, il primo punto, perché le altre sette le aveva vinte tutte. Quindi andiamo a vedere i gol proprio di ieri del Venezia, che ha giocato a Abono, ha pareggiato per 2-2, proprio al novantesimo si è fatta rimontare dalla squadra laponense, però comunque il Venezia è sempre in testa della classifica con 22 punti, di cui pervenuti 7 su vittorie e 1 su pareggio. Andato in vantaggio, vedete, proprio l'Abono con questo gol di Rappin a 9 del primo tempo e poi tutto il primo tempo l'Abono è riuscito a mantenere il risultato in equilibrio, sempre con vantaggio, poi nella ripresa invece al 17esimo ha pareggiato Carbonaro per il Venezia, ecco l'equilazione del pareggio, vedete, proprio a metà del secondo tempo e 7 minuti dopo Calzi è riuscito a portare in vantaggio la squadra veneziana, sembrava in là all'ottava vittoria consecutiva, poi vedremo le immagini, adesso vedremo il gol del raddoppio del Venezia, poi tra l'altro c'è stata anche l'espulsione del capitano Serafini del Venezia che ha giocato in 10, eccolo qui, questo è il gol che porta in vantaggio il Venezia al 24esimo, come dicevo sembrava in là per l'ottava vittoria consecutiva, invece al novantesimo Munarini dell'Abono riesce, eccolo qui, riesce a pareggiare per l'entusiasmo ovviamente del pubblico presente e portare a casa un punticino per l'Abono e purtroppo due persi per il Venezia, però comunque Venezia è sempre solitario in classifica nel girone C, mentre nel girone D come abbiamo detto c'è il Parma. Oggi c'è stata la presentazione ufficiale della Palavolo, della Tonazzo, in comune con il sindaco, con l'assessore dello sport, noi ce l'avamo, abbiamo sentito il presidente Fabio Cremonese e il capitano Duna, sentiamo cosa dicono i nostri microfoni. È ormai iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della Superlega, che campionato si aspetta? Io mi aspetto di fare un campionato dove i nostri ragazzi, come l'anno scorso, dimostrano che ad ogni partita vanno dentro con grande determinazione e un grande spirito, perché anche quest'anno avremo un campionato difficile, duro, con squadre che si sono sicuramente rinforzate in maniera molto solida. Noi crediamo di poter fare una squadra che comunque miri ai play-off e comunque miri, come ho detto prima, a darci dentro ad ogni partita. Ecco, tanti giovani può essere un punto di forza, perché i giovani, si sa, hanno voglia di mettersi in mostra, anche se mancano di esperienza. Sì, sono sicuramente un punto di forza, però è un punto di forza specialmente per il nostro obiettivo, che è quello di farli crescere. Noi abbiamo, come sempre, abbiamo detto che stiamo facendo un programma pluriannale, pensiamo ai cinque anni, un anno è già passato, ne abbiamo altri quattro per arrivare a fare una squadra che potrà combattere anche con le squadre principali, importanti. È continuamente un trampolino di lancio e anche un banco prova per i nostri ragazzi per far vedere che, anche se siamo giovani, la determinazione e la voglia di fare può essere una buona leva per far vedere agli altri che, insomma, gliela facciamo vedere dura qualche volta in campo, alle altre squadre forti. Santiago Orduna, capitano della Tonazzo Volley, il 25 inizia la Superlega, come sta andando la preparazione? Bene, molto bene, adesso siamo al completo finalmente, quindi mancano dieci giorni per l'inizio, l'attesa è grande perché dopo un mese e mezzo di preparazione abbiamo già voglia di iniziare a giocare per i punti. La squadra la vedo bene, ci stiamo allenando tanto e molto bene. Adesso ci manca un po' di gioco assieme perché tra un po' di infortuni e tra quelli che sono arrivati un po' più tardi per il nazionale e i discorsi vari, abbiamo fatto poco gioco, quindi sarà la cosa più importante in questi giorni prima dell'inizio. Ecco, una squadra molto rinnovata, molto giovane, si stanno integrando i giovani, voi li state aiutando, immagino? Sì, diciamo che la squadra è cambiata alla metà più o meno, i nuovi arrivi sono molto carichi, con tanta voglia di iniziare e con tanta voglia di lavorare, che è quella la cosa più importante. Poi con il lavoro di tutti i giorni si vedranno i risultati in campo sicuramente. Cosa ti aspetti da queste prime partite? Si inizia con Latina? Sì, diciamo che l'inizio è molto importante perché Latina è una squadra che ha fatto un colpo di mercato importante prima della chiusura, hanno preso un giocatore fondamentale per loro, però credo che potremo giocare allo stesso livello, quindi sarà molto importante iniziare col piede destro. Quindi staremo a vedere, fra più di una settimana inizierà il campionato di Atonazzo, giocherà in casa la prima gara, staremo a vedere come si comporterà la squadra padovana e con questo è davvero tutto.